Disneyland Paris si espande e nasce il primo universo a tema Marvel in Europa negli spazi del parco Walt Disney Studios. Dal 20 luglio Marvel Avengers Campus offrirà stunt live action a sorpresa, incontri epici con i supereroi Marvel, due attrazioni ricche d'azione, oltre a speciali ristoranti e negozi a tema Marvel. Un universo interamente reinventato, dedicato a scoprire, reclutare e addestrare la prossima generazione di eroi. Appassionati e non, grandi e piccini, potranno così unirsi agli Avengers e ai loro alleati, lanciando ragnatele come Spider-Man, volando nello spazio come Iron Man e Captain Marvel, trasformandosi e ricaricandosi come fanno i veri supereroi. Avengers Campus è la prossima pietra miliare nel piano di trasformazione pluriennale del parco Walt Disney Studios, destinazione perfetta per vivere un'esperienza con i supereroi preferiti.